Nel 2017 il Ministero delle Politiche Agricole ha iscritto il paesaggio agrario della Piana degli Oliveti Monumentali di Puglia al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, quale esempio unico di permanenza del paesaggio olivicolo in cui si è conservato l'impianto culturale degli antichi oliveti di epoca romana come il valore espresso dal paesaggio produttivo ancora vitale sia per quanto riguarda la coltivazione dell'olivo sia per il diffondersi di attività collegate alla presenza dell'olivicoltura monumentale, riconoscendo così l'attenzione delle politiche pubbliche locali, la salvaguardia della qualità del paesaggio e le azioni degli operatori economici finalizzate alla tutela degli aspetti produttivi. In Puglia, lungo la costa adriatica, tra i comuni di Fasano, Stuni e Carovigno, si trova la più alta concentrazione al mondo di olivi millenari, circa 300.000 piante censite di straordinario pregio botanico, un paesaggio agrario dominato dagli oliveti che occupano l'88,5% della superficie agricola utile con oltre 2.500.000 piante. La piana degli oliveti monumentali è il prodotto di un processo culturale originato in epoca messapica, costituito in epoca romana e strutturato lungo il Medioevo fino ai giorni nostri. Un giacimento quindi di risorse ambientali e beni culturali ancora visibili, dai fitti reticoli rurali alle vie romane e ai tratturi medievali, dalle masserie con frantovi ipogei a casedde e chiese rurali, dai sistemi di acquacoltura medievali alle torri costiere normanne, dai resti dell'antica città di Ignazia al ritrovamento della donna di Ostuni in Santa Maria di Agnano. Una composizione paesistica che si integra in un agro sistema olivetato con a fianco il parco naturale regionale dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, istituito nel 2006 con le finalità di salvaguardare i valori e i beni storico-culturali nei territori costieri di Ostuni e Fasano. Pertanto al principale attrattore turistico rappresentato dal turismo balneare si è affiancato un turismo culturale ed etnogastronomico favorito dalla presenza di diversi paesaggi rurali di elevata qualità ambientale. Molte masserie sono state quindi recuperate per svolgere attività agrituristica e di ospitalità rurale garantendo il recupero storico architettonico e la riqualificazione ambientale delle aree rurali circostanti, erogando servizi turistici sostenibili legati alla fruizione delle aree naturali costiere, potenziando i percorsi ciclopedonali. Esse assicurano valore aggiunto all'olio degli oliveti monumentali e contribuiscono ad assicurare una gestione e il mantenimento del paesaggio agrario. L'olivo è ancora oggi l'attore principale di un modello virtuoso di economia sostenibile legata alla cultura del paesaggio. Un esempio è Masseria Brancati, un appezzamento di 30 ettari con mille olivi millenari, con sesto di impianto libero di origine romana, di cui gli attuali proprietari, dopo sei generazioni, continuano la produzione di olio. Hanno aperto la Masseria all'ospitalità, svolgendo le guide turistiche, laboratori e corsi di enogastronomia e facendo anche vendita online. Masseria Brancati accoglie oltre 10.000 persone durante l'anno. A tutela del paesaggio le aziende della Piana producono olio extravergine biologico, recante sull'etichetta la menzione speciale da Oliveti secolari di Puglia ai sensi di legge. Attorno a questa idea è sorta quindi una comunità di olivicoltori che hanno condiviso i principi della tutela del paesaggio agrario, della biodiversità, dell'agricoltura biologica e della legalità. Questo progetto di promozione dell'olio degli olivi secolari vede anche la collaborazione al fianco degli olivicoltori dell'Istituto Agrario Pantanelli di Ostuni, della cooperativa libera, terra di Puglia e di Slow Food.